si puoi prendere il gelato si puoi prendere l'alimentazione la partecipazione la partecipazione la partecipazione la partecipazione Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Il 12 ottobre 1993 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 I am almost right at the train station Everybody is coming to the Barquale final day of Barcelona but I have to go back to Trenton Today is Sunday First I have to stop in Padua and then the train station is only 10 minutes to walk to the station And I have to stop in here Oh, that's it